New Y, for very Y people. Con assegni, Bancomat e tutto il resto. Certo. E il canone? 4,90 al mese. Bloccato fino al 2010. Bisogna provare. Una cena light? Eh, bisogna provare, no? Vieni in filiale a provare gli altri vantaggi di Conto Intesa Light. Müller presenta Mix. Pura crema di yogurt e fragranti cereali al cioccolato. Da mixare come vuoi. Mix Müller, per un piacere sempre diverso e sorprendente. Mix Müller, fate l'amore con il sapore. Red Bull, ti mette le alze. Immaginate un mondo di giochi che fa felice chi gioca, ma anche chi non gioca. Perché finanzia lo sport. L'ippica. L'arte. Questo mondo esiste. È quello dei giochi di Hans. Missione Buongiorno. Quella mattina i ragazzi avevano una missione difficile. Arrivare da lei prima che aprisse gli occhi. Per fortuna erano due tipi svegli. Buongiorno. Buongiorno Vodafone. Entra in Vodafone. La prima telefonata e il primo sms della giornata sono gratis. Tutti vorrebbero svegliarsi così. Pure io. Vodafone. Life is now. Mi stavo radendo. Ah, che taglio! Cucinavo, zack! Zack, mi sono tagliato. Sanguina! E come brucia! Guarda il mio nuovo cerotto. Asaplast Liquid Protect. Si attacca anche qui? Ho provato Asaplast. Non sanguina più. Tutto ok. Facile da usare. Veloce per guarire. Impossibile da vedere. Nuovo Asaplast Liquid Protect. Cerotto liquido. Hai mai visto un cerotto così? Italia 1! I Griffin sfidano le regole della TV in un nuovo appuntamento in seconda serata. I Griffin vietato ai minori. Questa sera alle 22.55 in Prima Visione Italia 1.